A dieci anni dalla sua uscita originale arriva la Definitive Edition di Mafia 2, un'edizione rivista e completa di DLC che farà d'apripista alla Mafia Trilogy recentemente annunciata, permettendoci di rivivere alcune delle storie meglio narrate nei videogiochi. La serie 2K, infatti, è da sempre sinonimo di narrazione. Il primo capitolo è ancora oggi un'autorità sotto questo punto di vista e il suo seguito diretto, nonostante uno sviluppo lungo e travagliato, si regge proprio sulla campagna principale. Il protagonista risponde a nome di Vito Scaletta, nato in Italia ma ben presto trasferitosi in America insieme alla propria famiglia. Un personaggio che rappresenta lo stereotipo perfetto del giovane emigrato oltreoceano nei primi decenni del Novecento. Famiglia povera, padre pieno di debiti e cattive amicizie sono elementi che lo portano a essere coinvolto in numerose vicissitudini, inclusa la Seconda Guerra Mondiale. È intorno a lui che si articola una vicenda lunga una quindicina di ore e divisa in capitoli. Mafia 2 è un'opera che spinge forte sulle emozioni, raccontando una storia adulta e cruda che non risparmia niente e nessuno. Vito è un uomo dal basso lignaggio che è disposto a sporcarsi le mani, pur di vivere a testa alta tra i grandi. Scoprirà le gioie e i dolori delle sue scelte fino a un finale amaro ma in qualche modo giusto. Un intreccio che non raggiunge il predecessore ma che ancora oggi a 10 anni di distanza sa regalare qualche momento di altissimo valore scenico. Ma ciò non toglie la presenza di problematiche importanti dovute alla difficoltà riscontrate nel realizzare un gioco fortemente lineare all'interno di un mondo aperto. Mafia 2 è un titolo schizofrenico che lancia il giocatore in una serie di missioni che scandiscono il passaggio del tempo tra un risveglio e un nuovo momento di riposo. Non esiste mai la reale sensazione di avere libertà di movimento all'interno di una città ricchissima di dettagli ma ridotta in dimensioni e mortalmente spenta. A parte una manciata di ristoranti, negozi di abbigliamento e officine, il resto degli interni sono demandati a missioni della campagna che circoscrivono la zona unicamente a quello specifico momento. Non si può scegliere quale missione intraprendere, così come sarà inutile provare a pensare di trovare incarichi secondari che sono davvero ridotti all'osso. Il sistema di shooting e il modello di guida sono invece in grado di fare scuola ancora adesso all'interno del genere, mentre gli appassionati del completismo possono dare la caccia a una cinquantina di riviste Playboy e a un centinaio di poster dei ricercati. La versione definitiva inserisce al suo interno tutti i DLC, questi sì incentrati sulla libertà di movimento e di scelta dell'incarico. Si tratta di contenuti che non fanno che confermare in maniera inequivocabile come la struttura free roaming alla GTA sia stata pensata e realizzata come qualcosa di totalmente collaterale, forse addirittura aggiunta a sviluppo più che avanzato. Le storie di Jimmy e Joe allungano a dismisura la longevità, mettendo in gioco rapine, scontri a fuoco e inseguimenti secondari. Smascherano tuttavia anche un'intelligenza artificiale molto limitata. Quel che resta nel gameplay è un discreto sistema di fuga dalla polizia che non si limita a giocare con gli incontri con le volanti, ma che richiede di eliminare anche le tracce dei propri crimini tramite il cambio di vestiti, della targa dell'auto o della riverniciatura. Mafia 2 era tecnicamente sontuoso già alla sua uscita, ma la revisione spinge sulla risoluzione di tutti quegli elementi precedentemente lasciati in disparte. In questo modo il livello di dettaglio diventa ancora più alto e lavora con la luce per offrire un risultato eccelso, soprattutto nelle automobili. Meno impressionanti sono i modelli dei personaggi secondari e passanti, così come dei fondali, che sentono in questo caso il peso del tempo e della mancata cura già all'uscita originale. Il doppiaggio in italiano è rimasto quello discreto di dieci anni fa, che alterna personaggi sufficientemente interessanti ad altri totalmente fuori luogo. Splendida come sempre la colonna sonora, sia originale che su licenza, con una serie di brani che ha fatto storia della radio a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso. Mafia 2 Definitive Edition riporta sul mercato un titolo ancora godibile sia per gli appassionati sia per i nuovi giocatori. Una produzione rimasterizzata di qualità che purtroppo non può nulla per limare quelle contraddizioni che già caratterizzavano la produzione del 2010. Vi ricordiamo in chiusura che Mafia 2 farà parte della Mafia Trilogy in arrivo su PS4, Xbox One, PC e Stadia. Cosa ne pensate di questa operazione di revisione? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. È tutto ok Vito, in qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti, ci penso io. Promesso. Grazie Vito, mi raccomando sta attento. Come li trovo due testoni così in fretta?